Le Voci del Mare, il concorso Canora organizzato da Canale 8 in collaborazione con l'ACAS, ha visto ieri sera, presso il locale Il Girasole di Bagheria, la sua tanto attesa semifinale. Dopo tre mesi estivi di sana competizione Canora, solo i più meritevoli sono riusciti a far parte di questa semifinale che a sua volta ha decretato, grazie ad una giuria di rilievo, i cinque finalisti che si sfideranno negli studi televisivi dell'emittente Canale 8 Palermo. Una competizione dove i telespettatori saranno parte attiva della serata, infatti potranno esprimere la loro preferenza che si aggiungerà al voto parziale della giuria. È stata dura scegliere tra i tanti concorrenti presenti, soprattutto per la loro comune crescita artistica. Proprio per questo, dopo alcune breve consultazioni, organizzatori e giurie hanno scelto di portare negli studi di Canale 8 anche tre ospiti che, pur non essendo arrivati tra i primi cinque classificati, hanno colpito per le loro capacità. Eccolo con noi, l'abbiamo rubato al palco per un minuto, lui è il nostro Roberto Lacorte, ha presentato l'evento Le Voci del Mare, grande fatica ma grande soddisfazione. Cos'è da dire stasera? Sicuramente una grande soddisfazione perché siamo stati in grado di scoprire nuovi talenti rispetto a già i vecchi talenti conosciuti. Questo non può farmi che un enorme piacere, anche perché vedere tutta questa gente che questa sera si è riunita assieme a noi è veramente un'emozione unica e indimenticabile. Voci del Mare non inizia stasera ma c'è stato un percorso, come ti senti ricordando tutte le serate trascorse insieme a loro? Come mi sento? Sicuramente soddisfatto e spero che nel tempo, il prossimo anno, Le Voci del Mare possa riessere presente come quest'anno e magari con qualche novità. La novità se verrà la scopriremo il prossimo anno. Un ampio servizio sulla semifinale di ieri sera andrà in onda sul programma in eventi di Canale 8. Per tutte le informazioni basterà collegarsi sulla pagina Facebook Le Voci del Mare. Grazie. Grazie.